Questo è il pranzo di oggi? Sì, sì. Cosa state arrostendo? Un po' di polla. L'avete portato voi o ve l'ha portato qualcuno? No, no, abbiamo portato tutto noi. Secondo giorno di protesta al casello A14 di Termoli dove ci si riscalda con il fuoco acceso. In pochi aderiscono alla manifestazione nonostante la caparbietà di chi si trova al presidio dalla mezzanotte di domenica. Automobilisti e autotrasportatori vengono invitati ad aderire fermando i loro mezzi simbolicamente anche solo per mezz'ora. Tutto sempre sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine. Qui per fortuna non si vedono scene di guerriglia urbano o di blocchi forzati come sta succedendo soprattutto al nord. Ma proprio ieri sera è stato allontanato dagli stessi organizzatori un gruppo di persone arrivate al presidio probabilmente con intenzioni violente. Intanto è iniziato anche il volantinaggio con le ragioni della protesta sia al casello della A14 che in alcune rotonde della città. Lei è uno di quelli che è rimasto qui anche stanotte. Come è passato? La notte è stata dura? È abbastanza. Sono state parecchie persone. Ha fatto un po' freddo. Ci siamo attrezzati col fuoco. Nuovo facciamo la casetta. Per questo conseguenza andiamo sempre avanti. Dove avete dormito stanotte? Dentro le macchine. Quel po' che abbiamo dormito. Sennò siamo stati in mezzo alla strada. Lei è un agricoltore di Larino. Perché protesta qui? Allora io sono agricoltore di Larino e protesto per un motivo soltanto. Per riprenderci la nostra, la prima cosa è la dignità che ce l'hanno tolto. Ce l'hanno detto di tutti i colori. E non si può andare più avanti. Perché lo Stato qua non ci riconosciamo più nello Stato. In Italia non funziona più niente. Ci hanno tolto tutto. Stipendi. Ma che dobbiamo... La dignità. È inutile che diciamo sempre le stesse cose alla fine. Stiamo facendo una manifestazione. Che fa il popolo italiano? Se ne frega, vedi? Lavorano, fanno, corrono. Lei è una donna anche qui a protestare. Perché? Io sono qui a protestare perché sono la moglie di un camionista. Protesto perché io non riesco ad arrivare a fine mese. Quando parlo con le mie amiche, nessuna di loro non riesce ad arrivare a fine mese. Mi meraviglio, mi meraviglio, che oggi non siano qui con noi. Questo mi lascia veramente disorientata. A tutte loro dico venite oggi. Perché oggi noi l'Italia ce la vogliamo riprendere. È nostra. Grazie per la visione. Grazie. Grazie a tutti.